La collaborazione è nata dal corpo musicale I Undicesimo, il maestro Marcello Merlini con la compagnia Magico Pauli e il nostro maestro Danilo Belotti che oggi presentiamo in prima assoluta il dottor Veromone. Lo spettacolo prende spunto dall'opera L'amore medico di Mogliero, rivisitata e riscritta da quello che nel corso di questi anni è diventato un amico della nostra banda, mi riferisco al maestro Marcello Merlini. Tutte le musiche che verranno eseguite questa sera sono state arrangiate da colui che ci dirige da qualche tempo e grazie al suo impegno, disponibilità ed entusiasmo che questa sera il corpo musicale I Undicesimo può avvantarsi di essere per una parte produttore dello spettacolo. Vorrei quindi ringraziare, accogliendolo con un grandissimo applauso, il nostro maestro Danilo Belotti. Arrivare al risultato di questa sera ha comportato notevoli sforzi, talento, passione, impegno possono molto, ma se viene a mancare sostegno economico anche le buone intenzioni faticano a decollare. Vogliamo quindi ringraziare chi anche questa volta ha creduto in noi, alla bontà del progetto che ci ha aiutato a realizzarlo. Non sono più solo sponsor ma veri e propri amici del corpo musicale I Undicesimo. Grazie. 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 Grazie.